Si può creare lavoro parlando di lavoro, comunicando esperienze, valori ma soprattutto strade nuove e percorribili? La risposta è senz'altro sì ed è venuta da quattro testimonianze, quella del sindaco di Palermo Orlando, del sindacalista della Cisla Castellani, dell'imprenditore sociale 800 e della formatrice Anna Maria Ginigliano, che da diversi ambiti della società civile stanno a dimostrare quanto in una congiuntura così pesante l'uomo possa ed abbia in sé le risorse e le capacità per progettare il suo futuro. Per ridurre i costi bisogna partire ad educare i più piccoli, i più giovani, partendo però anche da una formazione degli adulti. Ebbene sì, le macchine in realtà sono l'unica cosa che permette veramente di ridurre i costi ma riduce solo i costi non crea innovazione e lo sviluppo è quello che serve. Noi dagli anni 80 ci preoccupiamo tanto del fatto che le cose costino di meno, allora sono nate queste guerre intercontinentali che portano a produrre in Cina per ridurre costi, ma in realtà non abbiamo mai lavorato seriamente su una leva fondamentale che è quello di aumentare i ricavi, ovvero creare nuovi prodotti, nuovi servizi. Questa è un'attività che possono fare solo gli uomini, questa è un'attività profondamente umana a cui si possono educare i bambini facendogli recuperare tre competenze fondamentali, la capacità di osservare e quindi porsi delle domande, la manualità e quindi giocare a fare i prototipi, a smontare le cose, a capire le cose come sono fatte dal loro interno e l'immaginazione, vedere quello che non puoi vedere con gli occhi, vederlo con la mente, questo vuol dire educarli a disegnare il futuro. E se per il politico, il sindaco di Palermo, Orlando, non esiste una contrapposizione se non tra chi sta nelle diverse situazioni con coscienza e chi invece approfitta delle proprie autorità, per gli imprenditori sociali la sfida è sempre più antropologica e formativa. Quante persone ne avranno detto abbiamo un po' scoperto l'acqua calda però invece ci vuole il coraggio di proporle queste cose soprattutto oggi? Ci vuole il coraggio tra virgolette di industrializzarle, ovvero di renderle accessibili perché grazie al cielo siamo tutti convinti che queste sono cose buone e giuste, poi calarle nei processi scolastici con la grande varietà degli insegnanti e degli insegnamenti è una cosa invece che richiede il lavoro che abbiamo cercato di fare in questi anni, ovvero rendere tutto questo possibile poi all'interno dei programmi scolastici, all'interno delle ore, con le scarsissime risorse di cui la scuola è dotata. Questa cosa stiamo ottenendola e stiamo anche cercando di misurare quanto questo migliora le capacità di apprendimento dei bambini e le capacità di insegnamento degli insegnanti. Una necessità o un sogno la spinta su questa strada? Un sogno è un bisogno, il bisogno di aiutare i miei figli ad acquisire queste competenze che appunto non sono nient'altro che la parte più umana di noi e quindi il sogno di non vedere più una generazione in crisi, un mondo in crisi ma al contrario un mondo in sviluppo.